Il titolo di questo convegno è Asprimio, a scuola l'evoluzione della tecnica di divinicola e l'evoluzione. Per iniziare passo la parola al sindaco dottor Gisela Prochipori per i saluti. Sì, io sono rietro di essere qua a questa edizione perché ricordo la prima edizione di questa manifestazione. Mi ricordo che si tenne in piazza all'aperto e quando si fece quella manifestazione per la prima volta eravamo pieni di speranze che da quella manifestazione partisse un percorso capace di rivalutare quello che erano i prodotti tipici del territorio. Devo dire che col passare degli anni questo risultato lo si è raggiunto, ma al di là di questo risultato io credo che questa, ed è una riflessione questa che facevo tra me e me nel pomeriggio, intorno a questo risultato noi dovremmo lavorare per costruire delle opportunità di sviluppo. Se noi concateniamo l'importanza di un prodotto di cui Cesa certamente non ha l'esclusiva perché rappresenta uno dei tanti comuni e probabilmente altri comuni hanno un territorio anche maggiore, ma su cui Cesa ha investito in termini di impegno e di caratterizzazione territoriale. Se noi associamo a questo anche le sfide future che ci attendono, io penso per esempio al futuro PUC, al futuro piano regolatore di questo comune che ha visto inserito un territorio, una parte del territorio comunale come territorio a salvaguardia da parte di quella che è la programmazione provinciale, noi potremmo cominciare a ragionare perché su quel territorio si possa sviluppare il ragionamento di un parco urbano, il ragionamento di attività produttive compatibili di quadriturismo di tipo leggero senza strutture incompatibili con il territorio o altri tipi di attività che potrebbero arricchire questa iniziativa anche di una valenza sociale e anche di una valenza occupazionale in relazione a quelle che sono i bisogni del territorio. Questo credo che sia il prossimo appuntamento e di questo io sono grato come sempre alla Prologo perché poi è la Prologo che ha mantenuto in questi anni accesa la fiaccola di questo impegno e alla Prologo mi ha dato atto di aver fatto su questa battaglia della caratterizzazione territoriale del vino e spirito uno di quelli che sono di elementi che la rendono effettivamente tra le organizzazioni se non l'organizzazione di questo comune più attiva sia nell'impegno del ricordo delle tradizioni e sia nell'impegno sociale. Faccio gli auguri a tutti e vi chiedo scusa per avervi deviato per qualche minuto e passo la parola al modellatore. Ringraziamo il dottor Fuori sia per le parole espresse sia per la vicinanza che ha sempre dimostrato alla Prologo di Cesa. Passo la parola ad Anna Mele, presidente della Prologo. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio i vitticoltori che hanno accolto il nostro invito e che sono oggi qui presenti e che sono stati anche quelli non presenti ma che hanno partecipato dando appunto il campione per il binastrino che poi diciamo sarà valutato nella gara che seguirà il convegno. Io voglio dire giusto due parole, allora ringrazio il sindaco per la sensibilità che oggi ha espresso nei confronti delle tematiche che la Prologo porta avanti da tanti anni, ossia la tutela del territorio, la conservazione diciamo della perata versana che è caratteristica delle nostre terre e che grazie, come diceva il sindaco, grazie alla Prologo e non solo alla Prologo, soprattutto ai vitticoltori che hanno la loro terra, hanno mantenuto sul nostro territorio, tant'è vero che l'alberata versana per chi non lo sapesse ancora è patrimonio dell'UNESCO, quindi diciamoci è per noi un banto ospitarla sul nostro territorio e quindi la Prologo in effetti non fa altro che mantenere questa tradizione e cercare di trasmettere poi a quelli che verranno dopo di noi, che manterranno sempre viva questa tradizione. Io vorrei solo ringraziarvi nuovamente per la vostra presenza e ricordarvi che il prossimo weekend, il 31 maggio e il primo giugno ci sarà la festa di primavera, la 19esima sagra di Pinasprinio, che è una manifestazione che la Prologo fa appunto per ricordare a noi e a tutto il territorio e anche oltre i nostri confini, la bellezza del Pinasprinio che non è soltanto una tradizione ma può anche diventare l'occasione di crescita economica per il nostro territorio. Grazie a tutti e lascio la parola ad Angela. Dopo i saluti funzionali possiamo entrare nel vivo del convegno e a tal proposito passiamo la parola al Dottor Pipone, inguagliato direttore della Contraperruttura di Caserta. Noi dobbiamo essere particolarmente attenti nelle nostre tradizioni e soprattutto in queste colture che hanno disegnato il nostro paesaggio. Voi considerate che abbiamo nel nostro territorio diverse con le culture che hanno in un certo senso orientato tutti i comportamenti della popolazione. Allora iniziamo dalle abitazioni che erano a servizio di quella che era la coltivazione che si teneva nei campi ma anche e soprattutto il paesaggio che sono disegnato da queste culture. e l'asprimio è l'esempio più lambante di questo. Tutti hanno nella memoria le alberate e diciamo quella che è il paesaggio campagna con caratterizzato la presenza di un asprimio. Il problema della nostra diciamo politica piccola è stato quello di mirare a innovare e di innovare in modo a volte maldestro. In molti casi si è portata una istituzione perché erano delle costituzioni diciamo tradizionali e l'impostazione tradizionale delle nostre. Dalleggiando normalmente quella che era una tradizione e quella che era un grande patrimonio soprattutto culturale ma anche una grande opportunità economica di diversità perché il prodotto asprimia. E le emisioni piccole con diciamo produzione ma non si può pubblicare le emisioni piccole con il mercato. Diciamo questo è il vero nodo di tutta la vicenda. Allora bisogna organizzare la fase successiva cioè quella della programmazione avrà stimolato quello che è non necessariamente l'accorpamento, la crescita degli aziende, la cooperazione. Non è indispensabile pensare a qual è che questo si può. Si possono immaginare delle reti. reti di aziende che in pratica producono autonomamente il prodotto, hanno autonomamente una propria dimensione ma possono poi in certe occasioni e in certe raggiungere in certi mercati organizzarsi in forma di soggetto correttivo che possa in pratica fare breccia su quei che sono mercati che richiedono una certa organizzazione e una certa professionalità. Questa è la prospettiva che bisogna fare. Non è solo il nastrino che deve puntare a questo, sono molti dei nostri prodotti che hanno questa necessità. Poi pensate, facevamo prima un po' cosa, fa l'esempio della mela e della mela al murca che è un altro prodotto che è un altro prodotto che somiglia che può richiedere, diciamo, una verizia nella produzione, può richiedere una manualità anche per portarla alla vendita, nel senso che non la possa poter. È quasi un prodotto trasformato, se vogliamo dire, ha un'aggiunta di processo produttivo attento. E poi, in realtà, queste tradizioni vautano tantissimo e qualificano la produzione campana in modo particolare, non le trovate altrove. E sono queste alle quali noi dobbiamo, diciamo, agganciarci per poter affermare quella che è una tipicità locale e soprattutto una qualità di prodotti che hanno, tra l'altro, il vantaggio di avere una grande storia e di essere, diciamo, di avere appunto disegnato il nostro territorio. Quella che sarà la prossima programmazione ha questa intenzione nella, diciamo, una filosofia di base, perché in realtà la comunità europea è iniziata a porsi il problema che bisogna tutelare il paesaggio, bisogna guantare, e quindi si era partiti con un'idea che era un po' eccessiva, che era quella del crimine che doveva mantenersi una, diciamo, una tutela ambientale del paesaggio, ma in realtà si andrà verso il rispetto di quelle che sono delle tradizioni, delle condizioni tradizionali del territorio per poter fare, diciamo, sviluppo e poter migliorare la produttività e la qualità dei prodotti. Ma soprattutto si dovrà organizzare la parte che riguarda proprio la commercializzazione e la promozione dei prodotti. E questa sarà agganciata ad un'altra innovazione che potrà accedere a quelli che sono i finanziamenti, saranno solamente i cosiddetti imprenditori attivi, che è una nuova, diciamo, tecnologia che la comunità ha introdotto e che lo Stato italiano non ha ancora definito. Per la comunità europea si intende, diciamo, per lui che ha un inquadramento potenziale, che è professionalmente un agricoltore riconosciuto da quelle che sono, diciamo, nell'inquadramento soprattutto previdenziale e quindi noi ha, come tradizionale l'inquadramento di strutture di imprenditori di un agricoltore professionale. Però lo Stato italiano sta definendo ancora questo aspetto perché in realtà la nostra società è un po' diversa da quella che immaginano per la frammentazione delle realtà. Ci sono alcune, diciamo, aziende gestite da figure che sono intermedie, che in pratica sono di divergenti che hanno una piccola proprietà personale, che possono arrivare e non potrebbero accedere. Quindi si sta rifinendo quella che dovrebbe essere l'interpretazione di questo punto. Una volta definite questi aspetti si arriverà a risultare anche quelle che sono le risorse che possono aggiungere alle aziende sia per fini, diciamo, di sostegno al vento e quindi per quella che è l'intervento proprio della parte, ma soprattutto per gli investimenti. E, diciamo, nell'immediato, questo sarà un oggetto di discussione che dovrà, segnerà anche la vita di quelle che sono altre culture come la spirito perché in realtà definirà quali sono gli investimenti che si potranno portare nelle aree, nelle nostre zone. l'alto del 2014, passi certamente nel 2015, partiranno le nuove banche del PSR dove in pratica saranno definite le modalità di erogazione dei fondi. e il commento che faceva prima ci diceva che era molto appropriato sulla questione del PUC perché in realtà, diciamo, il piano territoriale di gruppo regionale e quello provinciale, che sono stati utilizzati in passato per disegnare le tessere del mosaico dove erano destinabili i fondi del PSR, sarà disegnato nuovamente e quindi si farà una sola unica distinzione perché ci si è resi conto che quel sistema è abbastanza faraggioso, che saranno solamente due distinzioni, area urbana e altra area. quest'altra area interverrà con grande, diventerà ancora più importante l'azione del comune che dovrà disegnarsi il suo territorio e dovrà in pratica destinare e proteggere alcune aree che devono avere uno scopo effettivamente produttivo. quindi questo è il futuro della programmazione di lì. si giocheranno probabilmente anche il recupero di tutta una serie di aree oramai interfuse tra i vari comuni che in pratica sono terra di nessuno oggi, possiamo dire. quindi avrebbe messo mano una ricosciutite di quello che è il tessuto territoriale perché in realtà noi abbiamo necessità di qualificare le nostre aziende, di portarle sul mercato però poi chi compra una pottiglia di vino di 10 miliardi di cesaro inerva poi l'intenzione di dire, ma io adesso voglio andare a vedere questo prodotto e deve cercare, deve trovare un territorio che deve essere all'altezza dei prodotti che uno produce, nel senso che deve trovare dei territori che possono accogliere dei visitatori e che devono essere dei territori che non devono avere, quelle che oggi abbiamo vissuto come brutte esperienze, diciamo di centra recente, che io mi rifiuto di chiedere di chiusare, perché in realtà, diciamo, queste, diciamo, iniziative che tiravano ad una fine buono, si sono tornate come pulvera anche in piedi e ci hanno squalificati, e ci hanno messo in grande difficoltà e devo dire che per la prima volta, avendo partecipato da alcune regioni anche al ministeriale, ci siamo trovati come regione Campania pronti sul tezzo, cioè nel senso, strano a dirsi perché io ho un'esperienza ormai di quasi 30 anni nel settore, però in realtà, diciamo, ci siamo trovati perché la regione aveva partecipato a un bando che si chiama Life della comunità europea e aveva venito, con una compartecipazione con la Federico Settivo, aveva venito questo bando classificando, si trovava tra i primi costumi, ed era già partita a fare questa ricerca assolutamente la tipicitazione di tutti gli aria, terra, acqua, con il professor Fagnano, che avevano già un lavoro anticipato che è stato messo sul tavolo del ministerio, dove la regione Campania ha detto questo è il metodo, questo è il metodo, questi sono i primi risultati. Quindi diciamo che l'effetto mediatico negativo sia subonfiato così rapidamente non è stato un caso, è stato l'effetto di una preparazione e di una presenza qualificata nella regione Campania che aveva, conosceva il problema, l'aveva affrontato e lo stava già risolvendo e quindi in realtà questa procedura che sta continuando nel renovare il cambio, controllare le conclusioni, avere il riscontro che i problemi sulle produzioni non ci sono, ha permesso in pratica, diciamo, a legge di questo piano mediatico, come era una pronta pagina. Devo dire che poi l'affetto negativo era più locale che, diciamo, internazionale, perché noi abbiamo molti dei nostri produttori, non solo di vino, ma anche produttori di vantaggi, che hanno relazioni con paesi esteri, i quali dai propri clienti hanno avuto richieste precisi e controlli di retti dove in pratica si sono chiesti giù, i tedeschi si sono venuti a fare le loro analisi, si sono fatte le analisi, e ho detto, continuo a mandare, però non cercano più, perché è quella che è un megastrata, cioè certificare, avere e fare una certificazione terza che sia terribile, che sia autorevole, e quindi l'iniziativa che la regione ha preso con l'istituto sopra scatti, con un cucoloso QR code, che è un sistema di identificazione che permette di identificare, si deve rendere tutta la filiera, tutta la storia del prodotto, con il telefonino, è un sistema che funziona su prodotti finiti, chiaramente, che ha in pratica il vantaggio di essere autorevole, pubblico, e che dobbiamo in un certo senso puntare anche a far crescere come utilizzazione. Quindi queste sono le strade. Chiaramente su questo impegno anche di confraccoltura, noi sul vino miriamo a ampliare quella che è un'iniziativa che ha già preso da alcuni anni l'Unione di Benevento, la nostra consuletta di Benevento, ha un programma esperienza di quattro anni di internazionalizzazione con la Cina. Dove è stata, sui mercati cinesi, sono ritornati in voto diversi produttori a conoscere i mercati, la Cina compra molto dall'Italia, pensate che la referente di questi rapporti, non l'avete venuto l'anno scorso, in questi tempi, chiese ma per poter comprare acqua minerale a chi mi possa conoscere. Allora pensate, l'ultima cosa che mi poteva venire in mente era che la Cina è venisse in Italia, acqua minerale, acqua minerale. E quindi questa è la situazione dei mercati, la globalizzazione del mercato è questa. Quindi bisogna avere la possibilità di andarci, di presentarsi bene e di avere le produzioni che siano alla potenza. Noi miriamo ad ampliare questa iniziativa che ha preso per Benevento perché si amplierà nell'anno anche alle altre province della Campania e per l'anno e gli anni futuri sarà proprio ripresentata come iniziativa regionale, quindi potrà essere aperta anche ai produttori delle altre province. Grazie. Grazie a tutti, buone che è stato, oltre ad essere saustivo, ci ha dato anche tantissime informazioni importanti su quelli che sono comunque i prodotti delle nostre terre. A questo punto passerei la parola al dottor Lormione, vicepresidente e viceventore della Conca di Purtroppo, grazie a Serta. Buonasera e grazie dell'invito a questa bella sera. Allora io non parlerò di leggi ma parlerò di, all'altro quello che ha detto il direttore, quindi al mercato. Noi facciamo un prodotto che è eccellente, un prodotto univoco, però un prodotto che deve essere portato al mercato. Per arrivare al mercato purtroppo bisogna usare delle tecniche di lavorazione che lo rendono almeno identificabile e comune alla tipicità di questo prodotto. Dico questo perché dopo assaggieremo alcuni vini, io ho avuto esperienza in assaggiare alcuni vini di questa area, dell'area aversana, che si distaccano molto dalla realtà della tipicità del rimastrino. Quindi bisogna lavorare sulle agrotecniche sia di produzione di campo che di lavorazione in cantina. Il signore con cui ho parlato prima dice io sono un piccolo produttore ma faccio 70 quintali di vino. 70 quintali di vino non è una piccola produzione ma è una grande produzione perché ci stanno aziende che fanno 4-5 mila bottiglie e stanno sul mercato e fanno reddito. Uno che fa 70 quintali di 10 mila bottiglie di vino deve andare sul mercato altrimenti non ha senso fare 70-10 mila bottiglie di vino. Però il signore mi diceva ma io non riesco a fare lo stesso vino tutti gli anni e ho qualche difficoltà perché una volta mi viene un problema, una volta mi viene un altro problema. Posso affidare a persone che ogni anno mi cambia la tecnica di lavorazione. Allora che significa rendere un prodotto unico? Utilizzare delle tecniche standardizzate almeno nella fase iniziale che poi ogni azienda personalizza il prodotto secondo le sue esigenze va bene. Però noi non dobbiamo far perdere con la lavorazione, con la conservazione delle uve e del vino, la caratteristica principale è quella dell'asprino, quindi il colore, l'acidità e tutto il profumo che emana. Allora dico questo, noi non dobbiamo fare tutte aziende uguali ma dobbiamo fare un vino che si somiglia quando più possibile pur diciamo diversificando. Questo si può fare, non è difficile se ci stava volendo fare produttori perché trovare diciamo un po' un denominatore per fare un vino che sia apprezzabile non è tanto difficile e non è tanto nervoso. Questo è il problema. La paura degli agricoltori fino ad oggi è stato quello che si ma io se vado dall'enologo, vado dall'agronomo quanto mi costa fare il vino? però non si è mai fatto i conti di quanto costa buttare 70 quintali di uva o 70 quintali di vino. Cioè spendere qualche cosina, non estremizzare perché io non sono mai per l'estimizzazione, ci sono aziende che devono fare i mercati esteri però quando parliamo di piccole produzioni noi parliamo di mercati locali però i mercati locali sono esigenti, non è che i mercati locali sono meno esigenti di quelli dell'estero. Allora noi in base alla nostra produzione dobbiamo creare una rete di un prodotto unico che riesca ad andare sul mercato e questo prodotto deve essere identificato da chi l'ha fatto, dall'area dove è stato fatto e dalle tecniche di produzione. Allora questo bisogna costruire su questo prodotto come tutti gli altri prodotti, bisogna costruire una rete che simulifici nella produzione e nella qualifica di questo prodotto, perché è un prodotto veramente utile, è un prodotto che spumantizza anche al naturale, qualcuno dice ma io faccio lo spumante in grotta senza fare niente, metto il vino in grotta al tuo spumante, è una caratteristica della Springer, si è fatto con delle tecniche che può spumantizzare in cantina, allora bisogna lavorare su questo. Lavorare su questo significa mettersi insieme, ma anche se non in termini associati, creare un gruppo di persone che vogliano aggiungere il mercato. Trovare una sintesi per lavorare le uve con le tecniche moderne, perché certo non si può pensare ancora di fare il vino come si faceva una volta, però neanche estremizzare la tecnica enologica, neanche estremizzare i prodotti chimici in aggiunge a quanto sono i prodotti naturali per le uve, però se non si va in questa direzione il mercato non si può mai raggiungere. Il mercato vuole un prodotto che sia di qualità, che abbia della storia alle spalle, però che ogni anno abbia una caratteristica che lo accumula, non vogliono un prodotto diverso anno in anno, quindi bisogna lavorare su questo. Se si riesce a lavorare su questo, anche l'Astrino, che è un vino comunque di difficile abbinamento, di difficile... cioè non piace a tutti come vino, piace più lo spumante che il vino, però è un vino che una volta poi fatto assaggiare, fatto assaggiare ad un certo livello, piace e poi rimane sempre così, non è un vino che non piace più come tanti vini che si fanno oggi. Quindi bisogna lavorare su questa cosa. Noi come organizzazione mi rendo conto che anche i produttori sono poi soggetti a tutte le norme che attualmente la comunità impone per quanto riguarda avere dichiarazioni di diminuire, dichiarazioni di produzione e quanti. Questo però non deve rappresentare uno scoglio per gli agricoltori, questo deve rappresentare una forma di tutela, nel senso che chi produce l'uva può fare il vino Astrino, ma chi non la produce lo deve comprare e deve giustificare da chi l'ha comprato. Quindi il vino Astrino deve avere una fonte sicura. Non possiamo trovare sul mercato del vino Astrino, fatte comunque diverse da noi dell'Astrino, cosa che possiamo trovare in altri vini. Quindi noi siamo, diciamo, dal punto di vista di tutela per questo tipo di vitigno, abbiamo una garanzia in più che non si riesce a riprodurre il vino Astrino con altri vini. Quindi se noi, diciamo, curiamo pure l'aspetto, diciamo, legislativo della tenuta dei registri, tutte le cose, abbiamo la garanzia di bere chi beve l'Astrino, vino Astrino proveniente da quelle uve, da quel tipo di vitigno e poi abbiamo la teologia di bere un vino, un monomitigno, perché attualmente i vini in commercio, la maggior parte non sono più monomitigni, ma sono miscele assemblati ed altro. Quindi, diciamo, noi ci troviamo di fondo un prodotto che va qualificato, però per qualificare dobbiamo lavorare sulle agrope. Ci vuole un ente che aiuti gli agricoltori a fare questo. L'Aprologo in quest'area si sta muovendo bene e grazie a loro perché si interessa di agricoltura anche l'Aprologo, in altre aree si interessa di altro. Invece si interessasse di agricoltura in un paese dove l'agricoltura è ancora bella, ancora esprime paesaggio, ancora esprime reddito per chi può, credo che sia lodevole. Bisogna, diciamo, da parte dell'amministrazione aiutare e da parte delle organizzazioni aiutare questa gente ancora credere in questa attività e lo fare con passione, con tanta passione. Grazie. 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 Grazie a tutti, innanzitutto. Vorrei ringraziarvi di avermi ospitato stasera per raccontarvi un pochino la mia esperienza, o direi anche la nostra esperienza, visto che quella di Masseria Campito è un'azienda nuova, è un'azienda che con mio socio, Lorenzo Di Martino, abbiamo iniziato da un po' di anni, abbiamo iniziato a fare il vino per gioco, abbiamo iniziato a fare il vino per passione, per passione per questo attaccamento alla terra, al territorio e automaticamente nel momento in cui ci siamo evoluti in questo modo di gestire il territorio, di gestire la nostra azienda, abbiamo pensato di puntare su un prodotto che ci identificasse, ci identificasse con il territorio, ci identificasse fortemente con quelle che sono le nostre radici storiche, quindi l'Asprino di Aversa. E quello che abbiamo notato, chiaramente bevendo Asprino da tutta una vita, che bisognava fare in modo di produrre un Asprino che potesse essere in grado di reggere a confronto con i grandi vini campani, io inizio prima di tutto con i vini campani, un prodotto che potesse essere messo allo stesso livello di greco di culto, di piano di avendini e non fosse quello che consideravo il parente povero dei doc e docci di campana, bisognava portare un territorio a un livello che non aveva avuto fino a quel momento. Per cui nei nostri settari di terreno abbiamo montato sull'Asprino, abbiamo fatto un impianto di nuova nocezione, abbiamo un impianto a spalliera, utilizziamo un sistema di allevamento a guio e guio doppio rapporto per quanto riguarda la produzione dello spumante. Chiaramente ci stiamo lavorando da un po' di anni, stiamo facendo delle prove, stiamo investendo tanto, credo che cominciano ad arrivare anche i frutti di un investimento in tecniche, anche ci siamo dotati di tecniche modelle, abbiamo realizzato una bellissima cantina dove possiamo lavorare come volevamo e stiamo arrivando a un prodotto, ritengo piano piano, stiamo arrivando a un prodotto di qualità. Tutto questo però è partito dall'amore per il territorio, io mi emoziono ancora quando parlo del territorio da cui siamo partiti, perché inizialmente tutto è partito dal vivere un'azienda agricola con i nostri vivi, cioè vivere il territorio, vivere il quotidiano di un territorio agricolo, per me che sono un cittadino così vivo, come posso considerarmi, è stato un modo per ritornare a qualcosa di vero e reale. Io sentiamo normalmente il termine braccia rubate all'agricoltura, io direi che le mie sono più braccia donate all'agricoltura e alla cantina, all'agricoltura, perché ritengo che dovremmo fare tutti quanti un po' un passo indietro e tornare a quelle che sono i reali valori dell'agricoltura. Premesso questo, quello che mi voleva fare come testimonianza, la nostra testimonianza, era che chiaramente fare impresa per una piccola impresa come noi, in un mercato del vino, che è un mercato molto complesso, molto grande, non è facile, però se si ha chiaramente un obiettivo, una voglia e un appoggio da parte anche delle istituzioni che dovrebbero cercare un po' di semplificare il nostro lavoro, piuttosto che molto spesso darci una serie di paletti su cui è difficile lavorare. È difficile lavorare quando sei un'azienda piccola e devi avere a che fare come dieci enti diversi che devono controllarti. Per una piccola azienda che, io prima mi ha fatto un po' sorridere, mi sono stato presentato come il direttore commerciale di Masseria Campino. In realtà Masseria Campino è un'azienda piccolissima, il direttore commerciale significa quello che cerca di vendere, ma quello che va in cantina, quello che c'è, sembra qualcosa di tanto grande, ma in realtà è qualcosa di molto piccolo essere Masseria Campino in questo ambito. Però è un modo di, come dire, cercare di darsi un'immagine, darsi un baravento da far vedere al mercato che il territorio esiste, riesce a creare azienda, riesce a fare impresa nonostante tutto. E oggi mi fa piacere, concludo giusto con alcuna battuta, visto che prima si è parlato del degrado del nostro territorio, che finalmente mi è capitato di avere interviste a Verona, a Piacenza e la prima domanda che mi facevano sempre, come reagisci vivendo il territorio degradato? Non voglio neanche io dirla quella parola. E la mia risposta era semplicemente con amore per il territorio, con passione e con onestà. Credo che alla fine fare impresa non è difficile, è impegnativo, ci vogliono dei sacrifici, ma nel momento in cui c'è il 99,9% delle persone che ci lavorano in quel territorio, che sono persone serie, persone oneste, possiamo tornare a dire con fierezza di essere parte di questo territorio e riportarlo ai giusti livelli che merita. perché abbiamo una Sprinio che per me è un prodotto eccezionale. C'è il mio cognato lì che dice che io sono uno che riuscirebbe a venderlo anche a chiunque perché sono innamorato del prodotto. Ebbene sì, io sono innamorato di una Sprinio, per me non ha paragoni. E l'azienda stiamo cercando di portarla su. Abbiamo iniziato quest'anno un progetto di metodo classico, perché abbiamo spumantizzato fino a oggi con il metodo Schermatt. Abbiamo avviato un bel progetto di metodo classico in modo che potremmo dire e vantarci di avere lo champagne in Campania. perché credo che il miglior prodotto da spumante in Campania sia la Sprinio. E mi arrabbio tantissimo quando lo propongo e dicono ah, il prosecco. Non scherziamo. Questo è spumante di Asprinio. Se vuoi il prosecco ci sta l'enoteca all'angolo e valla a Pocaretta. Questo è spumante di Asprinio. Allora, forza e onore a questo prodotto e io credo che riuscirà a essere messo sicuramente al pari di grandi vini Campania che poi non hanno nulla da dire ai vini nazionali e internazionali. Vi ringrazio, scusatemi se mi sono avvenuto. Vi ringrazio, scusatemi se mi sono avvenuto. Vi ringrazio. Mi ringrazio, mi ringrazio, mi ringrazio. Questo è tutto. Buonasera. Vi ringraziamo tantissimo il dottor Calvani che soprattutto gli facciamo i complimenti per il lavoro smonto con l'azienda che rappresenta. Il direttore commerciale, se è pur piccolo, posso dire così mi è stato detto da me. No, 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 così mi sarebbe stato detto. Ho i biglietti da visita con il direttore commerciale. Eh sì, non abbiamo sbagliato. Tutto l'opo, non c'è ancora. Ho fatto l'opo, diciamo. Sì, diciamo così. Va bene, ringraziamo ancora i presenti e vi invitiamo a non andare via perché, come è finito, però proseguirà con la gara del Vino a Asprinio. La giuria presieduta da Alessandro Farina dell'Associazione Nazionale Italiana Sommelier del Vesetta, che invitiamo per un saluto, assaggerà i campioni di 15 partecipanti di produttori locali. Quindi ci saranno 15 vini prodotti qua nel territorio centrale e sarà decretato il miglior vino a spina annata 2013. Passo la parola al dottor Calvani. Ci accicciamo quindi a questa degustazione del Vino a Asprinio. Mi ha fatto molto piacere sentire questo convegno e le varie testimonianze, sia nell'ambito, diciamo, della produzione che nell'ambito della tutela. E vorrei sottolineare anche per quanto riguarda questo vino, questo, come lo chiamavano i soldati, il piccolo grande vino. Piccolo appunto perché poco conosciuto, ma grande vino perché dà le grandi potenzialità. Prima abbiamo parlato delle sue caratteristiche, della sua peculiarità, come la grande acidità. La grande acidità che va in abbinamento con varie cose. Pensiamo alla mozzarella di buco, che è successo che sta avendo in questo periodo, le varie manifestazioni che si fanno. Vorrebbe questa essere anche un'occasione, diciamo, per far andare di pari passo, diciamo, un prodotto con l'ecologio, con il cibo e quindi un abbinamento cibo-vino anche in campo, diciamo, promozionale. Quindi, passa la parola alla moderatrice, diciamo, per fare una cosa. Ok. Grazie. 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 Allora, se vi consentite, io vorrei fare solo una considerazione. Allora, io vorrei ringraziare il dottore Piccone perché ci ha parlato della sua presenza oggi qui e ha dato un messaggio molto positivo al nostro territorio, che è quello di non crongiolarsi nella, diciamo, in questa litania, in queste lamentele che, diciamo, sentiamo a destra e manca, ma cercare di andare avanti, cercare quindi di tutelare quello che c'è di buono sul nostro territorio. Quindi offrendo qualità, offrendo preparazione e quindi cercando anche di tutelare quello che abbiamo di buono. Quindi questo è stato per me un messaggio molto positivo che noi vogliamo trasmettere al nostro territorio e anche oltre con la nostra manifestazione. Perché anche noi siamo stanchi di essere, diciamo, tacciati, di abitare in queste terre maledette, in queste terre, diciamo, martoriate. Siamo abitanti di una terra bellissima, non ci dimentichiamo che stiamo nella Campania Felix e quindi di conseguenza noi, appunto, e lo dico con orgoglio, noi abitanti di Cesa e viticoltori di Cesa, siamo cultori dell'agricoltura e quindi, diciamo, è la connotazione proprio del nostro territorio. Per cui, diciamo, siamo felici e orgogliosi che vada avanti questo messaggio e non il messaggio, diciamo, di una terra ormai priva di attrattive sia turistiche che economiche. Poi volevo ringraziare il dottore Meroni perché è stato molto, diciamo, molto concreto, come sono gli agricoltori. Perché gli agricoltori sono concreti, non fanno tante parole ma vanno ai fatti perché sono abituati a lavorare e quindi ad agire per ottenere un risultato. Quindi la ringrazio per il suo intervento. E poi volevo ringraziare il dottore Caldanico perché, diciamo, con la sua testimonianza ci ha reso, secondo me, un grande servigio. Perché è un incentivo anche per i giovani, nel senso che l'agricoltura è un mondo da tenere in considerazione perché economicamente può dare prospettive, diciamo, di impegno, di tutela, al tempo stesso di tutela del territorio. Quindi noi ci auguriamo come prologo, perché poi peraltro questa è la nostra funzione, quella di mantenere vive le tradizioni e quindi anche l'attaccamento alla nostra connotazione agricola del territorio, che le nuove generazioni ricominciano ad amare la terra come l'hanno amato i nostri avi. Quindi vi ringrazio e vi aspettiamo tutti alla festa di primavera, sabato e domenica. Peraltro vi faccio un annuncio che la Masseria Campito fornirà il brut che verrà utilizzato nelle grotte per la degustazione dell'olio omellino. Quindi ringraziamo fin da adesso per questa vicinanza con il nostro territorio. Grazie, grazie a tutti. Più volte c'è la rabbia, io mi ero a rappresentare con il stile, con l'avvocato, resistiamo, però nessuno ci è andato a insegnare. Tante parole belle, ma anche i vari enti regionali non hanno dato mai un soldo ai poveri condadini, a quei dettagli di tuttori per la produzione. Con la bicicletta andiamo sempre nelle campagne, vogliamo fare un percorso, un sito, un qua, le strade del primo, un percorso, si chiama la zona verde. Noi non ci rendiamo, io sono un appassionato, insieme a dove sta Stefano Verde, Umberto Noncento, ma niente. Però noi non abbiamo mai un segnale. Adesso siamo un impegnante col presidio Slow Food, quindi Petrini, abbiamo scritto, abbiamo incontrato la Petrini, ci ha dato un segnale. Bovi, il군i, il Senato, ma niente. Nonbrava! Grazie. 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 Grazie.